Buonasera a tutti, oggi abbiamo un altro evento di grande interesse organizzato dalla Commissione Responsabilità Professionale di cui sono coordinatore. Vedo per fortuna colleghi in presenza qui in aula, non solo avvocati ma anche medici legali perché oggi tratteremo un tema che ovviamente interessa in maniera trasversale la categoria dei giuristi e quella dei medici, dei medici legali in particolare e abbiamo anche molti collegati da remoto perché ormai la modalità è sempre più radicata, appunto quella della formazione a distanza, noi abbiamo anche una strumentazione, una tecnologia, una piattaforma che ci consentono di operare appunto a distanza con questi nostri incontri pomeridiani che poi possono essere eseguiti sia in contemporanea, in simultanea che poi in differita perché poi rimangono sui nostri canali internet e youtube, quindi grazie a queste tecnologie la nostra formazione diciamo è capillare ed è consentita appunto una diffusione di queste nostre iniziative. Come Consiglio dell'Ordine siamo ben lieti ovviamente di organizzare una formazione di alta qualità che ci è garantito e accogliere i nostri inviti e anche oggi infatti ne è testimonianza la presenza dei relatori che ora vi presento sul tema. Abbiamo, aprirà l'evento, il convegno, il dottor Rocco Blaiotta che è stato presidente della sezione quarta penale della Corte di Cassazione quindi ha una competenza, un'esperienza e una fama che io non devo qui stare a ricordare e poi interverrà il professor Vittorio Fineschi che generosamente insomma spesso è qui con noi e ogni volta ovviamente ci illustra tematiche sempre diverse e quindi lo ringraziamo nuovamente per essere presente nonostante poi sia impegnato su tantissimi fronti spesso lo vediamo anche in televisione. Grazie, riprendiamo e chiediamo scusa per l'inconveniente tecnico, dicevo al professor Fineschi che nonostante appunto la sua attività così intensa e spesso lo vediamo appunto ci illustra casi anche di rilevanza mediatica da un punto di vista medico legale però è qui con noi quindi siamo onorati. Poi abbiamo il professor Daniele Rodriguez, anche lui professore di medicina legale presso l'Università di Padova e chiude la presidente Fernanda Fraioli che ringrazio molto, procuratore regionale presso la Corte dei Conti e il tema lo analizzerà e lo illustrerà da un punto di vista giù scontabile. A questo punto io appunto do la parola al presidente Blaiotta. Grazie. Grazie, grazie del cortese invito. Mi piace sempre parlare di temi della causalità ma lo faccio particolarmente volentieri nelle occasioni nelle quali diritto va a braccetto con la medicina legale. Direi che la medicina legale nasce insieme alla scienza penalistica nell'Ottocento. Il grande Carrara era amico dei maggiori medici legali dell'epoca che ambedue le categorie avevano già allora compreso l'importanza dell'interazione tra diritto e sapere scientifico che è tema ancora attualissimo. Quindi sono tra voi con grande piacere e magari tenterò anche di fare qualche riflessione sulle connessioni che ci sono tra i due ambiti. Allora il tema che mi è stato affidato è quello della causalità giuridica, un'espressione chiave che anche l'intitolazione di una mia monografia su questo tema. L'aggettivo giuridica ha un particolare significato nel nostro campo. Vedete il tema della causalità è storicamente da Aristotele in poi stato esaminato sotto differenti ancoli prospettici. Abbiamo differenti visioni della causalità con concezione epistemica, con concezione condizionalistica, con concezione probabilistica, tutte orientate anche da esigenze connesse agli scopi che ciascuna entità perseguiva nell'utilizzazione di questo concetto. Nel campo del diritto si assiste a questo stesso fenomeno. l'idea di causalità che noi istintivamente acquisiamo all'atto della nascita, è una delle prime cose che un bambino impara, neonato impara all'atto della nascita, viene modellata nel nostro campo dalle esigenze, dicevo, del diritto, che nel campo del diritto penale, che è quello che ha maggiormente studiato il tema della causalità, attiene all'attribuzione di paternità dell'evento all'autore, quindi il lato oggettivo della imputazione, la causalità giuridica appunto. Queste esigenze di modellamento del concetto sono nel nostro ordinamento espresse nella disciplina del codice Rocco, che come voi sapete accoglie una concezione condizionalistica della causalità. Condizionalismo vuol dire che tutte le condizioni di un evento, tutti gli anelli della catena causale sono logicamente equipollenti, sono anelli ineliminabili ai fini della spiegazione dell'evento. Senza di uno di essi la catena si interrompe. La verifica in ordine al ruolo condizionalistico di ciascuna condizione è costituita dal giudizio controfattuale, cioè con un atto immaginativo si sottrae alla catena il fattore che viene considerato, che solitamente è la condotta posta in essere dalla gente, e ci si chiede cosa sarebbe accaduto se quella condotta non vi fosse stata. Ed è quindi un giudizio di eliminazione mentale, un giudizio controfattuale, che nell'ambito della causalità commissiva è abbastanza facile da esperire. Al contrario, presenta aspetti problematici nell'ambito della cosiddetta causalità omissiva. Questa concezione condizionalistica non nasce istantaneamente, ma è frutto di una evoluzione plurisercolare. Dovete sapere che fino alla fine del 1800 i giuristi consideravano eversive, addirittura immorale la logica condizionalistica, perché ritenevano che fosse incongro dare lo stesso peso a tutti i fattori della catena causale. C'era addirittura un sentimento di ripugnanza verso Stuart Mill e le scuole di pensiero che invece avevano un'impronta condizionalistica. La letteratura e la giurisprudenza ottocentesca accoglievano una concezione valoriale di ispirazione aristotelica, il concetto di causa efficiente, cioè ritenevano di poter individuare nella congeri dei fattori il fattore, la condizione che effettivamente aveva avuto il peso determinante nella spiegazione dell'evento. Una concezione molto bella, storica, gloriosa, plurisecolare, che però presentava ai fini delle esigenze del diritto penale un grosso problema. Quello cioè di essere vaga, indeterminata, intuitiva, la ricerca di questa causa primaria efficiente alla quale andava attribuito il significato illecito dell'evento, era un atto spesso aperto a soluzioni molto differenziate, molto discusse. Si era quindi in una situazione di incertezza. Questa situazione è stata travolta ai fini dell'Ottocento con alcuni scritti, uno dei quali dal giovane Francesco Antolisei, che hanno detto basta causa efficiente, noi dobbiamo attingere al condizionalismo, alla causalità logica. E questo approccio è stato fatto proprio dalla letteratura e poi dal codice Rocco e costituisce dunque la realtà con la quale noi ci dobbiamo occupare. Costituisce per l'appunto la causalità, tra virgolette, giuridica. La causalità giuridica è temperata, come sapete, dall'articolo 41 capoverso che fa riferimento ai cosiddetti fattori interruttivi e quindi abbiamo logica pura temperata dall'esigenza del diritto allo scopo di tentare di limitare la forza espansiva del condizionalismo. Perché questo nostro condizionalismo si espone a due forti critiche. La prima critica è stata espressa addirittura attribuendo un ruolo potenzialmente eversivo della tipicità al condizionalismo proprio per la sua attitudine espansiva, cioè l'attitudine ad attribuire rilievo anche a fattori che hanno avuto in realtà nella spiegazione dell'evento un peso molto scarso. Quindi una forza espansiva che corrompe il giudizio di paternità dell'evento. E l'altro punto debole è quello di non riuscire spesso a costruire una logica dell'imputazione dell'evento nell'ambito della causalità omissiva, che come voi sapete costituisce il vero aspetto problematico della scienza penalistica sotto il profilo della causalità. Il primo aspetto, quello del carattere troppo estensivo della causalità condizionalistica, è in parte governato attraverso l'articolo 41 capoverso di cui vi dicevo, che in sostanza per l'interpretazione che ne è stata ormai un'antimamente data, attribuisce rilievo interruttivo ai fattori che entrano nella catena causale con un ruolo predominante e dunque spezzano la catena, assumono su di loro il peso integrale della spiegazione dell'evento. È il classico caso, per restare al nostro ambito, della persona leggermente ferita, che si rechia in ospedale, ferita dall'avversario, quindi lesioni personali lievi, si rechia in ospedale per farsi curare, l'ospedale crolla per un improvviso evento, per un incendio, questa persona muore per l'effetto dell'incendio. E gli autori ottocenteschi, lo stesso codice Zanardelli, prevedevano una diminuente per questo fattore, ritenendo ripugnante che chi aveva leggermente leso potesse essere ritenuto l'autore, il padre dell'evento letale, che invece era dovuto al concorso di un fattore successivo e predominante. Questo approccio, come vi dicevo, è stato in parte fatto proprio dall'articolo 41 capoverso e dalla interpretazione che la dottrina e soprattutto la Corte di Cassazione vi hanno dato. Ma forse l'aspetto più interessante anche ai fini del nostro incontro è l'altro problema, quello cioè relativo alla ricostruzione del nesso causale nella causalità omissiva. E qui è storia relativamente recente, una storia molto bella, molto stimolante, che vede insieme per l'appunto la riflessione dei giuristi, la riflessione dei medici legali, ricordo ancora Barney, Fiori, Norelli, tralascio i presenti per non renderli in imbarazzo. C'è stata una grande interlocuzione che è poi sfociata nella sentenza francese. La sentenza francese risponde ad alcuni interrogativi che riguardano soprattutto l'utilizzazione del sapere scientifico e è stata generata da un conflitto insorto nella quarta sezione della Corte di Cassazione, nella quale ha avuto l'onore di lavorare tanti anni, proprio nell'ambito della responsabilità medica. Ci si chiedeva, per dirle in parole estremamente semplici, è possibile attribuire il nesso causale nelle situazioni nelle quali l'intervento medico che era mancato avrebbe avuto soltanto delle probabilità di evitare l'evento. La risposta che fino a metà degli anni 90 la giurisprudenza dava era positiva, alimentata da diversi argomenti, la difficoltà della scienza medica, l'impossibilità di raggiungere la certezza del condizionalismo, le esigenze di tutela della vittima, le particolarità, le diversità di ciascuna vicenda rispetto alle altre e quindi l'impossibilità di costruire schemi di impronta condizionalistica. Questi erano gli argomenti per la verità abbastanza flebili e spesso solo accennati contenuti nelle sentenze. A un certo punto però nella Corte di Cassazione, nella quarta sezione, è nato un conflitto alimentato anche dal fatto che spesso in udienza veniva un grandissimo giurista di nome Federico Stella che forse qualcuno ha sentito nominare che batteva i pugni e diceva signori la logica e condizione, la causalità è condizionalistica anche nell'ambito della causalità omissiva e quindi per piacere per condannare il mio assistito dovete dimostrare che la condotta medica appropriata avrebbe certamente evitato l'evento. Contrasto di opinioni, la vicenda arriva finalmente alle sezioni unite francese che doveva rispondere a due interrogativi. La conoscete quindi, la cito solo per flash, solo per dare coerenza al mio racconto. Intanto capire se potessero essere utilizzate nei ragionamenti probatori del diritto le generalizzazioni scientifiche o esperienziali non universali ma solo probabilistiche. Era il tema sul quale Stella premeva moltissimo e sul quale però è risultato sconfitto perché francese ha detto no, la scienza del diritto è una scienza intimamente probabilistica e quindi è sufficiente che il sapere che noi utilizziamo sia accreditato, sia affidabile, che poi la sua applicazione sia in termini probabilistici o di certezza in tutte le situazioni possibili è un'eventualità che non sposta la struttura del ragionamento. E qual è la struttura del ragionamento? È andata avanti la Corte di Cassazione. È una struttura ipotetico-abduttiva, introdotto questo termine abduttivo che ha una ascendenza gloriosa ma che sostanzialmente voleva dire che il ragionamento ha una struttura ipotetica che vuol dire che il sapere scientifico propone delle ipotesi di spiegazioni che il giudice assistito dagli esperti considera, le mette a confronto queste diverse ipotesi e verifica se ciascuna ipotesi è coerente con i fatti presenti sulla scena. L'esempio classico è dell'automobile che sbanta in curva, ci si chiede perché ciò è accaduto e l'esperto formulerà diverse ipotesi, la velocità, la strada ghiacciata, l'olio per terra, la scarsa lucidità del guidatore, eccetera. Tutte ipotesi sensate, fondate sulla comune esperienza, ma anche con una base scientifica, ovviamente. Ciascuna di ipotesi deve essere vagliata, mettendola a confronto con i dettagli presenti sulla scena e quindi si chiederà all'ispettore di polizia o al consulente intervenuto sul luogo per piacere, dimmi se in quella curva c'era da ghiaccio, se era di notte, se era buio, al fine di verificare cioè appunto la coerenza di ciascuna ipotesi con questi segni presenti sulla scena e accertata questa coerenza probabilmente ad esempio il giudice potrà aggiungere a ritenere che l'evento è stato determinato dal fatto che in quel momento si era all'alba, in montagna, c'era uno strato di ghiaccio, la macchina sbandò per effetto appunto di questa ghiacciazione. Questo è in parole davvero molto molto semplici, lasciando da parte tutti gli aspetti epistemologici anche molto sofisticati, anche molto complicati, questo è il senso del carattere abduttivo del ragionamento probatorio espresso dalla sentenza francese. La sentenza francese ha dovuto ovviamente aggiungere un ulteriore anello, va bene, noi utilizziamo anche le generalizzazioni probabilistiche, anche quelle tratte dalla comune esperienza, le cosiddette massime d'esperienza, ma poi quali sono le condizioni che infine devono condurre il giudice ad affermare che ha la certezza in ordine all'esistenza della ipotizzata relazione causale. E a questo punto la corte di Cassazione si è trovata a confrontarsi con le diverse ipote, scuole di pensiero inerenti al sapere probabilistico. Due scuole di pensiero. La prima scuola è di impronta matematica, la cosiddetta scuola pascaliana, cioè una concezione aritmetica della probabilità. È probabile tutto ciò che non rappresenta il 100%, quindi dire 99,9 è ancora un approccio probabilistico. La certezza è data da 1, tutto ciò che è inferiore a 1. L'ideale pascaliano, voi capite perfettamente, ponendo la sticella davvero in alto, soprattutto nell'ambito dei ragionamenti della causalità omissiva, era difficilmente accettabile. E allora la corte di Cassazione ha accolto una concezione di impronta probabilistica, appunto, introducendo il concetto di probabilità logica. Questa espressione bellissima, molto acutamente introdotta dalla corte di Cassazione, ha risolto il problema, ma ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi e anche alcuni equivoci che ancora oggi permangono. Perché secondo molti, secondo molti giudici, secondo molti avvocati, secondo molti periti, dire elevata probabilità logica significa dire qualcosa vicino al 100%, il che costituisce, diciamolo pure, una sorta di aberrazione, perché lo scopo della corte di Cassazione era proprio il contrario di far fuori, detto in parole povere, la causalità aritmetica in sé irraggiungibile ed attingere invece ad una concezione razionale, abduttiva, ipotetica della probabilità. Allora cos'è questa probabilità logica? Esprime sinteticamente l'idea che la ricostruzione che il giudice raggiunge mettendo a confronto il sapere tecnico-scientifico ed esperienziale con le particolarità del caso, l'ipotesi che ha costruito, è fortemente corroborata, e cioè molto forte, e non è sconfitta da ipotesi di segno contrario introdotte, ad esempio, da voi, dal difensore, che non deve andare, nella maggior parte dei casi, in giudizio solo per contestare, ma anche, ad esempio, per proporre una ipotesi alternativa in grado di falsificare, di mettere in dubbio la probabilità logica che invece l'accusa intende proporre all'interno del processo. Quindi il processo è sostanzialmente, per la sentenza francese, un conflitto tra ipotesi ricostruttive in competizione. Questa idea di causalità, che viene anche chiamata causalità baconiana, in effetti risolve bene i problemi presenti nella causalità commissiva. L'unico rilevante problema è quello che vi accennate e sul quale voglio insistere. Quando voi troverete la parola probabilità, voi avvocati, in un capo di imputazione, e questo spesso accade, o in un ragionamento probatorio contenuto in una sentenza, anche dalla Corte di Cassazione, dovete avere ben presente questa distinzione tra causalità aritmetico-pascaliana e causalità probabilistica, logico-probabilistica, di impronta baconiana per attingere ai maestri, ovviamente, che hanno costruito teoreticamente queste elaborazioni. Grande chiarezza, perché quando qualcuno vi dirà «Ah, ma si sarebbe salvata al 99%», voi avvocati, credo che avreste buone ragioni per dire «ma allora questa è ancora probabilità, io voglio sapere se c'è nel processo una probabilità logica». E allora la probabilità logica va fortemente sottolineata, pochi minuti e ho finito, questa probabilità logica va sottolineata, forse sostituendo alla parola probabilità logica, io l'ho detto tante volte, l'ho detto anche in alcune sentenze, sostituire alla parola probabilità logica la parola corroborazione dell'ipotesi, che eliminando la parola probabilità, forse elimina anche questo dubbio, che ha una portata dirompente. Io continuo a leggere sentenze anche della Corte di Cassazione, nelle quali l'equivoco permane. Questo ragionamento di cui io vi ho parlato, sempre alla luce delle elaborazioni della Corte di Cassazione, particolarmente delle sentenze Unite Francese, viene chiamato ragionamento esplicativo, cioè un ragionamento che spiega un fatto del passato, i giudici, i avvocati, i poliziotti, i pedici legali, spiegano, tentano di spiegare, quali sono le cause di un evento passato, che si è verificato e nel quale è presente un comportamento attivo, commissivo, un colpo di coltello, lo sparo di un fucile. In questi casi il giudizio logico controfattuale è abbastanza semplice. Basta sottrarre il colpo di fucile o la sciabolata per verificare se questa condotta è più o meno condizionalistica. E lo stesso può accadere per l'atto medico. Il medico che ha reciso con un colpo di visori sbagliato ha posto in essere una condizione attiva. Il giudizio controfattuale si fa eliminando questo colpo incongruo del chirurgo e comprendendo come cosa sarebbe accaduto. Nella maggior parte dei casi, se il paziente è morto per un'emorragia, sarà facile dire che se non ci fosse stato quel gesto erroneo il paziente si sarebbe salvato almeno in quel momento lì. Le cose diventano molto più complicate nel ragionamento inerente alla causalità omissiva. In genere la causalità omissiva costituisce nel campo del diritto penale l'argomento forse più complesso e più controverso. Credo siano state scritte nel corso degli anni o dei secoli, ormai centinaia di immunografie. È veramente una sorta di rompicapo. Un rompicapo che poi si è manifestato, come vi dicevo, anche all'interno della Corte di Cassazione. Perché è un rompicapo? Perché i medici legali lo sanno molto bene. È molto difficile, nella maggior parte dei casi, della disciplina medico-legale, dove il problema in effetti è nato e si è mostrato con la maggiore forza. È molto difficile, nella maggior parte dei casi, dire che, posta in essere la diagnosi, applicata la terapia appropriata, il paziente si sarebbe salvato con certezza, cioè sarebbe uscito con le proprie gambe dall'ospedale. È molto difficile spiegare una serie di fattori che, se avessi tempo, potrei elencarvi, ma che voi intuite facilmente. L'esempio classico è quello dell'infartuato. L'infartuato va in ospedale, non viene diagnosticato, non viene curato, torna a casa, muore. Si instaura un processo e il giudice chiede al perito si sarebbe salvato la vittima del nostro processo. E il medico-legale gli dice guardi, che vuole che le dica? Non lo so. Le posso solo dire che, se non sbaglio, statisticamente parlando, il 62% delle persone che arrivano in ospedale con un infarto e che vengono curate si salvano. E, dice il giudice, ma io con questo 62% non ci faccio niente, perché io non devo, attenzione, non devo dire che si sarebbe salvato aritmeticamente, in termini di certezza. Devo poter costruire un ragionamento probatorio che mi consenta di dire che è razionale pensare con elevata probabilità logica, con elevata credibilità razionale, che il paziente si sarebbe salvato. Mi direte voi, forse è un po' un sofisma, forse anche sì o forse anche no, non lo so. Fatto sta che le cose funzionano in questo modo, forse per la decisiva ragione che la desiderata certezza aritmetica nella maggior parte dei casi del mondo del diritto, in particolare dell'esperienza medico-legale, non si riesce ad affermare. E qui però c'è un problema aggiuntivo perché questo 62% rimane. E allora come si fa a tentare di raggiungere l'ideale della elevata probabilità logica, la Corte di Cassazione ce l'ha spiegato a partire dalla sentenza Lovison del 2007 e poi le Sezioni Unite, ha articolato un distinto tipo di ragionamento che viene denominato ragionamento predittivo. Il giudice, insieme agli esperti, naturalmente, ha chiamato a compiere una predizione che deve avere per poter giungere l'affermazione di responsabilità, avere il crisma della elevata probabilità logica. Come si costruisce questo ragionamento? La Corte di Cassazione ha detto che si costruisce con due momenti. Il primo momento è quello probabilistico, è quello del 62% per intenderci, e poi si chiederà al medico legale, e questo è un momento importantissimo sul quale mi piacerebbe fare anche qualche riflessione, dimmi, quali altri fattori erano presenti sulla scena? Dice, beh, per un infarturato è importante che sia diagnosticato presto, che sia giovane, che non abbia comorabilità, che l'infarto non sia completamente devastante, cioè che ci siano dei fattori che ci incoraggiano a razionalmente pensare che in termini di ragionevolezza ragionevolezza il paziente si sarebbe salvato. E questa è la certezza del ragionamento predittivo della causalità omissiva. Ripeto, è una cosa che a dirla sembra relativamente lineare e che però evidentemente è difficile da tematizzare, non lo so per chissà quali ragioni, comunque la realtà è questa, è difficile da tematizzare. Certamente i medici legali possono aiutare e a questo punto proprio chiudo con due parole che mi piace dire qui in presenza di due eminentissimi esperti di questa branca della medicina che a me è stata sempre molto simpatica perché un medico legale è molto simpatica, le ho anche molto ammirati già da quando facevo il pubblico ministero nella preistoria perché il medico legale deve avere una grande varietà di capacità, deve essere evidentemente un bravo medico ma deve anche conoscere il diritto e deve avere anche delle doti potrei dire intuitive un talento particolare per cogliere che cosa? Le cose che alla fine interessano al giudice lo dico alla luce della mia esperienza i dettagli la risposta agli interrogativi causali nei casi problematici sono i dettagli e allora il medico legale può aiutare come il medico legale può aiutare il problema è nato ha avuto grande evidenza proprio in concomitanza con la vicenda francese io ricordo ancora i bellissimi articoli in particolare uno meraviglioso del professor Bardi del 1994 che lo ricordo ancora che espresse con la sua autorevolezza delle critiche nei confronti della criteriologia medico-legale dell'epoca cos'è questa criteriologia magari Vittorio Fineschi se avrà voglia ci dedicherà due parole di quello che è storicamente giustamente la medicina legale è una bella scienza un ramo scientifico della medicina che ha storicamente elaborato dei suoi costrutti come avviene per ogni scienza e i suoi costrutti sono stati condensati nei cosiddetti criteri criteriologici scusate questa difficile parola da pronunziare per me che ho la remoscia la criteriologia questa criteriologia di cui io non sono mai riuscito ad apprezzare fino in fondo quale parte sia buona e quale parte sia cattiva però metodologicamente parlando ha un vizio che Barney nel 1994 ebbe il coraggio di mettere in luce cosa non facile perché era dall'ottocento che si parlava e ancora un po' si continua a parlare di criteriologia questa criteriologia questi criteri cioè di interpretare e di spiegare in essi causali sulla base appunto di dogmi scientifici non si confronta con che cosa con il punto di vista giuridico con l'idea che la causalità è giuridica cioè modellata dalle esigenze del diritto il concetto di causa purtroppo per fortuna non lo so lo elaborano i giudici sulla base del codice insomma non così per partito preso ma alla stregua di ragionamenti ed elaborazioni molto complesse come ho tentato di raccontare quella è la causalità giuridica la medicina legale io mi ricordo che in un convegno usai un'espressione che mi suscitò grandi in sofferenza ah che è una bellissima scienza però ha un ruolo servente questa parola servente fu interpretata negativamente ma io non sono al servizio del giudice queste cose secondo me banali servente nel senso che fornisce gli strumenti che consentono al giudice di capire di classificare gli eventi sulla base delle categorie che sono imposte dal diritto questo significa nulla di di meno che commentevole che di meno che importantissimo perché il giudice senza il medico legale da solo non va cosa fa il giudice cosa deve fare io dico la verità l'ho sempre pensato anche quando ero giovane anche intuitivamente anche prima di studiare approfonditamente questi temi il giudice non deve chiedere al medico legale se c'è il nesso causale non gli deve chiedere neanche se c'è la colpa perché sono valutazioni di impronta giuridica che hanno bisogno di costrutti giuridici che spesso ahimè non sono facilissimi da raggiungere quindi non c'è bisogno che le acque vengano ulteriormente complicate da un medico legale che spiega il nesso causale a modo suo lui deve spiegare il nesso causale alla stregua dei criteri legali codicistici e quindi non bisogna chiedere lo dico sempre quando vado nei corsi per gli uditori giudiziari per i magistrati interiocini per favore medico legale dimmi quali sono le coordinate le informazioni scientifiche e le informazioni fattuali del caso concreto che mi possono aiutare a spiegare il fatto e de hoc direi satis grazie per l'attenzione che mi avete messo di ricardo Presidente grazie mille perché ci ha fatto una lezione magistrale sull'argomento della causalità giuridica ripercorrendo la genesi di questa categoria e quindi anche la ricostruzione storica dall'inizio insomma da quando hanno iniziato ad essere trattati questi temi ad oggi anche nell'evoluzione giurisprudenziale quindi non solo legislativa ma giurisprudenziale quindi la ringraziamo e anche per i suggerimenti che ha dato agli avvocati che ci ascoltano che sono coloro che noi abbiamo l'obiettivo di aggiornare e formare di quali sono gli strumenti che possono utilizzare ovviamente stiamo parlando di un processo penale nell'ambito di un processo penale lei ci diceva di proporre l'ipotesi alternativa da mettere in dubbio appunto la probabilità logica e quindi sono dei temi che credo che i nostri iscritti abbiano interesse a seguire poi alla fine ci ha in particolare calato l'argomento nell'ambito della medicina legale e ci ha spiegato appunto che in questa materia queste controversie riguardanti soprattutto l'responsabilità professionale poi il giudice si deve necessariamente avvalere del medico legale ma nel senso che lei ha detto alla fine ovviamente perché poi chi è giurista deve continuare a utilizzare le categorie giuridiche e il medico utilizzerà altre categorie però in una stretta collaborazione quindi venendo alla presenza e alla figura e alla necessità del medico legale nel processo appunto diamo la parola al professor Vittorio Fineschi grazie 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 avvocato Alesi grazie per l'invito grazie per essere qui anche stasera e oltre ringraziamenti anche i complimenti per questa organizzazione e devo dire non mi ero messo d'accordo con il presidente Blaiotta che mi ha aperto la strada proprio al tema che avevo focalizzato prima però di iniziare quello quei pochi minuti che occuperò con il mio dire tengo molto a dire che è stato citato più volte Federico Stella è stato citato moltissimo il mio maestro il professor Barni alla mia destra il professor Rodriguez si è reso anni fa attore di un processo molto complicato che tutti ricorderanno i tumori delle fabbriche di Marghera in cui Daniele Rodriguez il professor Rodriguez fece il perito o il consulente del pubblico ministero il perito la parte non mi ricordo per l'avvocatura per l'avvocatura di stato e ci fu un durissimo scontro teorico proprio con Federico Stella metodo medico legale e metodo giuridico che si sono confrontati io rapidamente anche per l'imbarazzo che ho nel parlare dopo il presidente Blaiotta che devo dire su questi temi mi è stato anche lui maestro perché io ho letto e ho tradotto in medico legalese le sue parole e mi piace molto partire dalla letteratura dal 1912 più uno di Sciascia che ricorda come la scienza quella che noi dovremmo portare nel processo sia talmente incerta che spesso il giudice deve fare tabula rasa di tutte le teorie che si portano e affidarsi alla conoscenza al cuore umano e alla legge questi criteri sono ripresi più volte il diritto e il sapere scientifico quale rapporto quale difficoltà quale dialogo ecco credo che tutti quelli che si sono confrontati con questi temi e sto citando magistrati importanti giuristi riconoscono quello che il presidente Blaiotta ci ha proprio detto la zona di confine che anche il medico legale deve avere e adesso affronterò proprio il tema della differenza che esiste fra criteriologia medico legale e metodologia tutto questo che dovrebbe consentire di arrivare alla cosiddetta prova scientifica che dovrebbe essere la medicina legale a portare è vero io concordo non chiedere al medico legale la colpa a me non piacciono le consulenze tecniche o le perizie medico legali che affrontano e definiscono il comportamento come negligente imperito imprudente queste sono categorie giuridiche il medico legale dovrebbe riassumerle dicendo dov'è l'errore dov'è l'incongruenza del trattamento ma lasciare la traduzione del comportamento giuridico al giudice stesso noi rappresentiamo dove si è concretizzato l'errore e quindi da dove partire beh i metodi scientifici non forniscono e non lo possono fare nuove categorie di prove possono però ricercare la verità la verità è forse forte perché come cercherò di spiegare a me stesso soprattutto la verità è diciamo un astruso concetto che il medico legale non riesce quasi mai ad ottenere a parte le certezze che sono oggettività il colpo da fuoco sul cadavere ma su temi delicati l'oncogenesi professionale che nel Marghera fu trattata le patologie amianto correlate la responsabilità sanitaria è difficile che l'apparato tecnico di cui il medico legale fa uso possa consentire nonostante la competenza esperta di arrivare a una verità quello che il medico legale può offrire è un metodo a mio avviso presidente Blaiotta non una criteriologia il medico legale dovrebbe abbandonare la criteriologia e adesso dirò perché a me dispiace molto quando si continua a leggere dei criteri che sono frutto di un vecchio libro che io porto spesso con me la criteriologia medico forense che è un libro degli anni sessanta e che fu una gloriosa diciamolo relazione a convegno medico legale che si tenne a pavia ma che dopo sessant'anni deve essere definitivamente abbandonata e non è anche un problema solo di differenza criterio metodo ma è anche una una problematica non semantica ma di concettualità innanzitutto che cos'è una criteriologia e adesso faccio vedere e poi torno indietro un attimo questo è il libro che tutti i medici legali usano tutt'oggi vedete società editrice pavese 1960 relazione al sedicesimo congresso nazionale adesso siamo al quarantesimo Cazzaniga il professor Cazzaniga è stato un grandissimo direttore di Milano ma perché non può essere più questo che regola il criterio temporale l'esclusione d'altre cause il criterio apponte perché la criteriologia è la dottrina del criterio cioè una teoria dei mezzi e dei metodi di cui il pensiero dispone per sceverare il vero dal falso e già questo ci dice che non può più esistere una criteriologia medico-forense siamo nel 1960 qual è il limite maggiore di questa criteriologia è che non c'è un richiamo bibliografico a chi ha cambiato completamente il metodo di lavoro scientifico cioè a Popper non c'è un riferimento non c'è un riferimento induttivistico non c'è un fondamento per cercare di distinguere il giudicare che spessissimo è su base empirica e allora qual è il limite maggiore che occorre e faccio vedere anche su che cosa si basa la criteriologia che ancora si insegna in molte scuole di specializzazione e mi dispiace dire Daniele che ancora si insegna questa criteriologia nelle scuole di specializzazione perché e ovviamente non mi riferisco a te che sei una delle menti più brillanti della medicina legale perché come vediamo sono criteri che non hanno più nessun valore applicativo nel processo nella metodologia medico legale e continuo a usare metodologia e poi dirò subito dopo perché non criteriologia e come vedete questo è il sommario di questo rivoluzionario libro che negli anni sessanta ha dato l'impronta secondo me un'impronta che adesso deve essere cancellata alla medicina legale e vedete criterio di razionalità anamnestico di certezza di possibilità di verisimiglianza il criterio di probabilità o statistico che forse ha un vestito ancora che può tenere e poi il criterio di relatività analogia quantitativo sperimentale e così via ecco io devo dire è un libro che anche quest'anno mi sono portato con me al mare e me lo sono riletto tre quattro volte sotto l'ombrellone perché credo che abbia un suo valore ha un suo valore perché ti dice dove devi abbandonarlo quali sono i punti che puoi salvare e perché devi passare al metodo che cos'è il metodo che il medico legale dovrebbe usare beh innanzitutto il metodo è un criterio che dovrebbe portare a una critica fondamentale dei criteri e quali sono le conseguenze abbandonare in quanto irrealizzabile il fatto che vi sia un medico legale che possa portare certezze verità che cosa può portare il sapere scientifico è in linea di principio fallibile e allora che cosa possiamo portare noi possiamo portare un metodo scientifico che parte da una razionalità popperiana che si muove secondo dei criteri di falsificazione del dato e che senza scomodare i filosofi della scienza da Kuhn fino ad arrivare a Wittstein che viene rocco mi permetto di dire pochissimo citato anche dai giuristi ma le teorie falsifazioniste muovono anche dalle critiche di Wittstein che sono fondamentali perché ci dice che cosa che cosa a un certo punto possiamo salvare nella sua paradossale poi anche ironia in certi passaggi o veniamo allora che cosa possiamo dire il perito certamente si è evoluto negli anni e allora dalla criteriologia alla metodologia il perito sappiamo chi è vado avanti nel dire che deve dialogare con il giudice il presidente Blaiotta ci ha detto ma che cosa io voglio che ci sia in una consulenza in una perizia innanzitutto la correttezza scientifica dei principi utilizzati che devono essere vagliati da lui stesso dal giudice stesso e il grado di affermazione che questi criteri posseggono all'interno della comunità scientifica un dato che ci dice che questi principi sono applicabili al caso di specie e allora ci muoviamo in questa piramide delle conoscenze la scienza la tecnè e la prassi perché l'esperienza non deve essere abbandonata perché chiaramente il criterio e la metodologia si basano anche sull'empirismo che è un principio fallibile ma che comunque costituisce una veste importante della metodologia medico-legale ed allora vengo subito a dei passaggi fondamentali che credo e metto in discussione perché Presidente Blaiotta io non ho certezze ho chiesto al Presidente Blaiotta di fare un capitolo in una piccola monografia che sto cercando di scrivere proprio su questi temi e occorre credo partire da una condivisione fra giuristi e medici medici legali soprattutto di come si struttura l'esperienza pratica e di come noi traduciamo in una perizia il problema della costruzione metodologica io in questo schema che riassume che cosa è l'esperienza pratica scrivo che è strutturarsi come competenza d'abitudine ecco il problema dell'esperienza è che non ha bisogno di regole l'esperienza perché l'esperienza è riconoscere ciò che tu hai già visto e quindi quale regola solo il fatto che io riconosco perché è un sapere probabile che è completamente diverso dal sapere inferenziale e è completamente diverso dal ragionamento di tipo abduzionistico che tu hai citato e su cui arriverò quindi qual è il problema partire dalle oggettività che è un primo dato difficile perché il medico legale deve dire che ciò che è oggettivo non dipende da alcuna forma di giudizio e conseguentemente io posso valorizzare l'oggettività quel dato non può sfuggire prima hai citato il bisturi che taglia un arto una vena di un arto l'oggettività non mi serve certamente nessuna valutazione è diretta è un reperto oggettivo vero o falso in questo caso vero questo lo salto perché è il ragionamento di Empel che complicherebbe e allora come lavora il medico legale il medico legale ricerca le evidenze le oggettività e come fa? fa mediante un'ipotesi ragionamento abduttivo e poi mi fermerò sull'abduttivo perché l'abduttivo è composito sappiamo tutti che l'abduttivo si compone si compone ecco qua innanzitutto che cosa si beh diciamo che dobbiamo dobbiamo presupporre che dobbiamo partire innanzitutto che le evidenze non sono tutte uguali le evidenze sono graduabili valutabili dobbiamo anche lì dire che c'è evidenza che ha un suo peso e che c'è evidenza che è discutibile che può essere messa in discussione e che non è un supporto probatorio così forte ed ecco alle regole allora visto che sono stato rimproverato perché alcune cose le do per scontato mi scuserete mi scuserete ma a questo punto devo dire che cos'è un'ipotesi un'ipotesi altro non è che una abduzione ipercodificata quindi una legge ipercodificata che cos'è un'abduzione ipocodificata che vi rappresento in diapositiva è una regola selezionata è la più plausibile fra quelle possibili e poi esiste un terzo fronte tripartito la legge creativa il medico legale dovrebbe lavorare su questi tre criteri confrontandosi che dovrebbero portarlo a un'evidenza che può essere un'evidenza certa o come ho già detto probabile questo ritengo presidente dovrebbe essere il nostro lavoro è difficile sì ma siamo nel 2024 posso ancora contentarmi dei criteri del 1960 non lo posso fare io capisco che la mia è una battaglia all'interno della disciplina poco compresa e anche osteggiata perché chi diceva Machiavelli abbandona il semplice e il conosciuto per un destino che non è noto beh insomma fa doppio danno e lo capisco però non possiamo dire che la medicina legale può ancora avvalersi di criteri che sono ormai medievali dal punto di vista d'approccio e poi ecco qui mi rifaccio un po' mi dispiace citare perché non lo gradisco quando lo sento ma i codici indicali che cosa sono i codici indicali qui hanno lavorato molto i semiologi io ho letto molto eco perché mi piace però devo dire se proprio vogliamo capire che cosa sono i codici indicali che la medicina legale dovrebbe usare dovremmo andare allo Zaddi di Voltaire che ci parla delle abduzioni e che ci dice che cosa sono i sintomi che cosa sono le ipotesi quando ci racconta di corna zoccoli e scarpe è fondamentale ecco i codici indicali forti sono quelli che usiamo raramente li ha usati il professor Rodriguez nel processo di Marghera quando ancora le conoscenze erano molto poche quando il tumore epatico dovuto a certe sostanze era veramente in discussione e questo dava modo al professor Stella in quel caso l'avvocato Stella di contestare alcune affermazioni che poi Daniele la conoscenza che è evoluta ti ha dato ragione poi ci sono quelli speciali tecnici iper specialistici che dovremmo noi saper usare e mettere nelle consulenze e nelle perizie e poi ci sono i codici esperenziali su cui io credo che dobbiamo fare veramente ordine perché sono repertori di un sapere descrittivo che può essere solo usato in determinate condizioni e non a sacrificio dei criteri più ampi e poi alla fine individuata la legge scientifica svolgere gli accertamenti per verificarla e poi portare la prova una cosa che mi piace ricordare è questa perché è stata già ricordata da chi mi ha preceduto il medico legale poi non dovrebbe andare alla valutazione giuridica lo ha detto molto bene il presidente Blaiotta questi sono i triangoli inversi di competenze del giudice e del consulente acquisizione delle evidenze è tutta nostra interpretazione delle evidenze è condivisa fra consulente e giudice la valutazione giuridica non è affatto nostra e conseguentemente il giudice non dovrebbe chiederci proprio che cosa noi riteniamo sulla responsabilità in un caso di contestazione sanitaria e poi vado a concludere l'abbandono anche dei criteri d'oltreoceano che sono molti citati in letteratura i Dobert ma soprattutto i Farley che sono molto lunghi perché perché sono criteri di natura epidemiologica e sono di un contesto a noi lontano perché noi non abbiamo una criteriologia non abbiamo un pretrial soprattutto in cui ci possiamo confrontare portando a confutazione già le differenti prove e quindi i criteri sia Farley che i Dobert non possono essere da noi accettati li possiamo citare li dobbiamo conoscere ma non li possiamo portare certamente a sostegno quali invece dobbiamo portare beh una cultura specifica il medico legale dovrebbe abbandonare il tutto fare e dedicarsi a dei settori di conoscenza non accettare tutte le perizie io non ho mai preso una consulenza di genetica forense di DNA non ho mai preso una consulenza tossicologica ecco la cultura specifica la capacità di metodo non di criterio la capacità metodologica e l'induzione e l'abduzione che siano conosciuti vado a concludere perché anche quando tutto questo è rispettato ci viene insegnato che la scienza può essere comunque una cattiva maestra quando quando ovviamente si sbaglia quando è cattiva scienza quando si usano strumenti che non garantiscono un'applicazione buona o cattiva della scienza quando è una buona scienza applicata male cioè quando io applico dei criteri validi ma li applico male sono io il cattivo scienziato e poi infine quando è una buona scienza che viene utilizzata mi permetto presidente di dire in modo improprio forveante dal giudice in serie decisioni e queste sono le sbavature che noi comprendiamo quando siamo a sedere ma che non sono corregibili da noi e le viviamo anche con una certa sofferenza perché capiamo che non siamo stati o compresi per colpa nostra oppure che il processo forse era fatto di tante tessere conoscitive che noi non avevamo in mano e che forse il giudice si è basato su quelle che sono più contestuali più fattuali e meno scientifiche ed è andato verso una decisione e anche questo è un punto che forse potrebbe essere interessante analizzare vado a concludere anzi concludo con l'ultima diapositiva dicendo che spero che questi anni a venire si affermi un diverso modo di procedere dal punto di vista peritale anche la differenza che è stata fatta l'interpretazione giurisprudenziale che noi usiamo nella metodologia commissiva nella metodologia omissiva e quindi nella valutazione di questi fatti dovrebbe avere però un unicum interpretativo il medico legale dovrebbe essere colui che è attento all'evoluzione della scienza e di come riassumerla non per criteri e qui cito Prometeo o Prometeo a seconda se latino o greco perché è una lotta che va fatta va costruita e mi fa piacere oggi avere accanto Daniele Rodriguez che ha fatto avanzamenti notevolissimi su certe tematiche e soprattutto che ha cercato di far capire anche nei processi come il metodo medico legale e non il criterio medico legale siano cosa diversa e proprio lo ha fatto davanti a chi con quei libri giustizia e modernità e il giudice Corpusco Dariano aveva aveva provato e poi col torto che la giurisprudenza però gli ha dato non ha trovato uno sfogo fattuale concreto alle sue teorie ecco proviamoci la medicina legale è complessa non è possibile continuare a usare nelle perizie e soprattutto perché ci abbiamo spesso professionisti che poi rispondono anche di fatti erariali e purtroppo io li difendo anche in quelle sedi e mi rendo conto che spesso gli elaborati sono quelli che hanno portato la giustizia reale a processare e a richiedere somme ingentissime a colleghi e spesso con affermazioni per esempio l'affermazione dei medici legali c'è colpa grave ma quale è il tuo riferimento quando tu consegni una perizia dicendo che c'è un errore connotato da gravità a quali riferimenti stai facendo e tutto questo ci porta a dire cambiamo il metodo e abbandoniamo i criteri grazie dell'attenzione grazie professor Finischi che ci ha introdotto nella scienza medico-legale parlandoci in particolare del metodo medico-legale ci ha illustrato cose che in realtà si lui ha detto come ben sapete come ben sappiamo probabilmente è così ma sicuramente ci ha aiutato a comprendere meglio queste tematiche sempre in chiave io lo ripeto noi formiamo gli avvocati in chiave poi di applicazione pratica nella nostra professione quindi sono tutti i suggerimenti tutti i spunti che sono utili credo ci possono guidare anche nell'esercizio della nostra professione nell'approccio alle controversie riguardanti questa materia quindi nella scelta del medico-legale nella eventuale osservazione e critica che si possa fare alla consulenza tenendo presente appunto tutti questi aspetti è stato citato già chiamato dal professor Fineschi il professor Daniele Rodriguez ordinario dell'Università di Padova che in particolare ha come tema quello della causalità e del danno post-trasfusionale quindi do la parola al professore Rodriguez Buonasera a tutte buonasera a tutti sono emozionato di essere qui in questa sede prestigiosa ringrazio moltissimo per l'invito ringrazio anche per il tipo di relazione sul quale farò poi qualche considerazione preliminare ringrazio Vittorio Fineschi il quale mi ha gettato indietro negli anni in questa tormentosa vicenda che fu il processo di Porto Marghera nel quale addirittura vi fu prodotto un lavoro pubblicato su una rivista scientifica che riuscimmo a dimostrare che era falso costruito in una determinata maniera quindi rendetevi conto che battaglia fu contestato il fatto che le patologie e fu un momento drammatico ancora i brividi che le patologie che avevano i lavoratori non godevano del supporto sperimentale e quindi qui apriti cielo potete immaginare cosa è accaduto ecco detto questo come ricordo e ringrazio Vittorio per aver ricordato queste cose e per parole di stima che rivolte nei miei confronti mi hanno fatto molto piacere e lui sa che la stima è reciproca e adesso comunque vado avanti con la relazione se no mi distrago troppo e qui propongo un indice un po' folle che mi sono predisposto ho preparato anche le diapositive comunque tengo l'orologio e rispetterò il tempo che mi è stato dato è stato molto interessante quello che è stato detto penso che ci siano molte questioni che io tratto che hanno degli aganci cercherò di farli se non riesco a farli lascio l'intelligenza ai presenti quello di creare i collegamenti la scelta che ho fatto rispetto al titolo proposto è stata una scelta un po' particolare perché adesso questo è l'indice l'avete visto i primi tre punti sono quelli che dovrebbero essere i punti clou dell'incontro però negli altri tre punti che hanno il titolo piuttosto lungo cerco di individuare quelle che potrebbero essere condotte professionali delle quali scaturiscono determinate possibilità di addebito ai professionisti perché il tema che oggi ritengo fondamentale da trattare in relazione alle trasfusioni è il fatto che siamo funestati da una serie di trasfusioni che non sono indicate c'è una sovra proposizione di trasfusioni a soggetti e il problema grande è il fatto che le trasfusioni intrinsegamente hanno tra gli effetti positivi hanno anche tutta una serie di effetti collaterali i quali manifestandosi qualora la trasfusione sia stata fatta non indicata hanno sicuramente un loro rilievo sia penale sia civile comunque fatta questa brevissima introduzione passo alle diapositive quindi è un po' quello che ho già anticipato adesso mi riferisco poi agli ambiti penale civile per cui il tema della trasfusione se andiamo a finire anche in altri ambiti previdenziari indennitari è un tema assolutamente ampio i punti che io vedo di interesse sono quelli rappresentati dall'errore trasfusionale dai casi di trasfusione effettuata senza indicazione o con una sottovalutazione delle controindicazioni e poi l'altro tema interessantissimo quello delle trasfusioni effettuate contro la volontà del paziente nella a seconda di queste tre tipologie di casistiche diverse noi ci possiamo trovare di fronte a conseguenze biologiche di tipo assolutamente diverso potete intuire quello che è la conseguenza di un errore trasfusionale rispetto a quello che è una complicanza intrinseca della trasfusione o rispetto al fatto delle ripercussioni di tipo psicologico psicopatologico che possano conseguire a carico di una persona che aveva subito una trasfusione contro la propria volontà la casistica quindi che immagino di proporre e che stiamo raccogliendo in una ricerca di casi in qualche modo consimili o ancora tenere presente quindi che in seguito in seguito o virgolettate in seguito perché il dato naturalistico che si è a disposizione di solito è che in seguito alle trasfusioni possono subentrare possono intervenire svariate alterazioni di caratteri biologiche ognuna di queste conseguenze ha caratteristiche ognuna spesso queste conseguenze hanno caratteristiche analoghe a quelle di patologie naturali questo è un fattore di complessità nella situazione dopo entrerò nel dettaglio per adesso accontentatevi di questo inquadramento generale l'insorgenza avviene anche in tempi variabili che sono sequele acute chiamarle così immediate anche di minuti altri di giorni altri di settimane o addirittura anche di mesi in una persona che ha spessissimo patologie preesistenti e la realtà è di due tipologie più o meno da un lato l'avvocato può avere a che fare con un cliente che gli pone il problema a naso della riconducibilità causale di quello che in quel momento ha la persona alla trasfusione che è effettuata per tutte quelle sequelle di trasfusione che sono un po' note al pubblico ci sono però e questo è l'argomento di particolare interesse che ci sono tutta un'altra serie di sequele che nessuno parlo della generalità del pubblico nessuno conosce come potenziali sequele intrinseche delle trasfusioni quelle che vengono definite anche reazioni avverse alla trasfusione ma che non sono ben inquadrate come tali e quindi non si ha la percezione diretta che siano danni riconducibili alla trasfusione stessa vi propongo adesso analiticamente alcune situazioni per riflettere assieme poi magari per ognuna di queste situazioni pensando all'interpositiva che ho preparato sentendo il consigliere sentendo il professor Fineschi che parlavano ho visto degli aganci dei collegamenti che cercherò di fare se riesco ad avere gli appunti sotto mano in modo adeguato allora teniamo presente che dal punto di vista logico alle volte dobbiamo creare un esso causale analizzare un esso causale rispetto alla trasfusione in sé e rispetto alla trasfusione in sé è una sequela di eventi fisiopatologici parzialmente noti che devono essere ricostruiti individuati e in altri casi abbiamo le conseguenze proprio dell'errore commesso al medio quindi ci può essere un doppio problema causale uno dal punto di vista estrettamente biologico e uno rispetto a una condotta professionale quella dell'errore la trasfusione errata è evidente significato forense e invece per quanto riguarda la trasfusione in sé essa acquista secondo me rilievo giuridico tutte le volte in cui si proceda ad una trasfusione senza indicazione della trasfusione stessa e la conseguenza quindi della trasfusione nasce da un'attività medica che non aveva nessun supporto logico per essere effettuato quindi ripetiamo le tre possibilità delle condotte mediche censurabili errore 1 2 mancanza indicazione sottovalutazione dell'indicazione contro la volontà del paziente questo l'ho già accennato prima dicendo trasfusione gravata d'errore e quindi dobbiamo valutare il nesso causale con l'errore nelle altre due eventualità il nesso causale va ricostruito rispetto alla trasfusione in sé e per sé in pratica conseguenze che possono sembrare semplici sequele fisiopatologico alla trasfusione possono costituire danno ed essere attribuite eventualmente ad una condotta del medico adesso vediamo tutte queste ipotesi queste eventualità biologiche alle quali stavo pensando la situazione la quale pensano tutti nella maggior parte dei casi sono le infezioni dal punto di vista così conoscitivo adesso le infezioni sono assolutamente importanti però le procedure precauzionali in ordine ad evitare proprio la trasmissione di infezioni attraverso la trasfusione sono tante tali per cui l'argomento è scontato ma non è di quelli più pressanti argomento classico quello relativo e questo è riferibile sicuramente a un errore quello della reazione emolitica acuta sulla quale sulla quale noi abbiamo la necessità di riuscire a capire se in effetti allora abbiamo di fronte un'emolisi acuta dobbiamo riuscire a capire se si tratta di una emolisi da trasfusione qui ho indicato sommariamente ho usato la parola criteri ma lo volevo richiamare la criterologia medico-legale elementi di carattere diagnostico per riuscire a dire questa emolisi acuta è una emolisi acuta che è riferibile alla trasfusione in passaggio logico e questo e ci sono degli elementi che ci inducono a ricostruire questo tipo di connessione causale possiamo avere e qui potrebbe essere un fenomeno che il cliente e l'avvocato non conosce non percepisce adeguatamente un'emolisi ritardata è curioso come nelle relazioni causali si riesca a intuire relazioni causali quando il tempo è relativamente breve ma tutte le volte in cui la causa per agire è necessaria di un tempo più lungo è difficile riuscire a percepire mi viene in mente fatta un'associazione terribile ai veleni peritopi che devi fare in modo che la reazione tossica peritopi venga a distanza di tempo dall'assunzione così loro non si rendono conto del rapporto causale vedete che può intervenire questo tipo di emolisi ritardata anche per poterla riferire alla trasfusione il problema è sempre quello abbiamo il dato oggettivo e prima si faceva riferimento alla oggettività di una seridà il dato oggettivo è quello la ricostruzione sotto il profilo causale è quello di ricostruire tutti gli elementi a loro volto oggettivi che possono consentirci di attribuire dal punto di vista fisiopatologico quella determinante alterazione alla trasfusione stessa abbiamo tutta una serie di reazioni febbrili che sono segnalate in letteratura come riferibile alla trasfusione e di volta in volta noi dobbiamo renderci conto se questa reazione febbrile senza emolisi è una reazione che è riferibile della trasfusione qui ho iniziato per alcune alterazioni che sono immagino penso meno note ed è anche uno dei motivi per cui le segnalo indicare il fatto che c'è letteratura scientifica che riporta questo tipo di reazioni letteratura scientifica in genere dopo possiamo entrare meglio nell'argomento allergie di tipo anafilattico anafinarsi è un fenomeno che può conseguire a parecchi fattori ancora una volta noi abbiamo la gestione di stabilire se si tratta effettivamente di una reazione anafilattica riferibile sicuramente alla trasfusione e abbiamo tutta una serie di criteri per fare questo tipo di diagnosi due temi che sono quelli della casistica importante realmente emergente adesso sono quelli che sto per enunciare in alcuni casi si può manifestare un edema polmonare cardiogeno ed in letteratura è segnalato un sovraccarico circolatorio associato alla trasfusione che dà un quadro sostanzialmente analogo all'edema polmonare e allora e riprendo quello che ho detto all'inizio come certe patologie assomiglino molto a patologie di tipo naturale dobbiamo riuscire a capire se questo è un edema polmonare cardiogeno che abbiamo individuato e un edema polmonare riferibile al sovraccarico circolatorio connesso alla trasfusione e ci sono tutta una serie di criteri che possono essere dotati per un orientamento di tipo diagnostico e non vi ho detto siccome ormai il gergo è quello è un edema polmonare che viene definito tacco ed è una delle complicanze relativamente frequenti poi si è visto che sta aumentando sempre di più relative alla trasfusione un altro tipo di edema polmonare non di natura cardiogeno perché risiede in alcune alterazioni letteralmente a livello polmonare del parenchium polmonare è questa alterazione che con acronimo viene chiamata trali e tutte le volte che noi dopo una trasfusione dovessimo avere una lesione polmonare acuta dobbiamo renderci conto se sia una lesione che è causalmente riferibile alla trasfusione i criteri per la diagnosi teologica ci sono la letteratura di riferimento c'è e di volta in volta si farà la diagnosi del caso ma la serie delle lesioni le chiamarle così intrinsecamente connesse alla trasfusione è lunga emocromatosi è una delle possibilità tutte le volte che si trovano di fronte a un caso di emocromatosi in un soggetto che a lungo è stato sottoposto a trasfusione dobbiamo domandarci se è una emocromatosi sono molte le cause che possono esserci o se è una emocromatosi secondaria a un sovraccarico di ferro e ci sono degli elementi diagnostici che ci consentono di fare questo shock settico che consegue alla somministrazione di sangue proveniente da unità contaminate un'altra eventualità i ragionamenti volte in volte a fare sempre quello la letteratura la vedete scorrere sotto gli occhi abbiamo anche delle reazioni da trapianto che sono associate alla trasfusione sono più frequenti in caso di trapianto midollare però sono state segnalate anche in caso di trasfusioni abbiamo casi di iperpotassimia sempre solito ragionamento qui abbiamo qui lasciato in bianco i criteri per la diagnosi e fiologica perché molto spesso in questi casi il dato è proprio così evidente che non c'è modo di fare nessun tipo di ragionamento se prima avevi il potassio normale fai la trasfusione non c'è altre cause che possono aver determinato l'iperpotassimia è anche difficile immaginare un ragionamento positivo in base al quale ricostruire questa questa origine allora fatta questa rapidissima carrellata e l'ho voluta fare pretendo sia una casistica emergente che non va sottovalutata mi ritrovo un po' nella stessa situazione in cui mi ero ritrovato a Porto Marghera vale a dire letteratura da un lato casistica concreta dall'altro lato un'indicazione della letteratura che dopo tutto mi dava delle indicazioni di carattere significativo però tu diresti che erano regole ipocodificate però erano e sono delle regole sulle quali si lavora e qui mi aggancerei a quello che ha detto il consigliere Blaiotta vale a dire abbiamo da un lato la regola di origine scientifica che ancora non può costituire legge perché non ha un valore assoluto e hai il contributo straordinario del singolo caso perché l'epidemiologia ci serve la ricerca scientifica ci serve però i caratteri i dettagli da valorizzare sono il singolo caso e sono quelli che ti possono aiutare a ricostruire al di là del dato epidemiologico una credibilità razionale di una ricostruzione di tipo causale e questa comunque è la domanda che mi sto ponendo con questi casi a disposizione e una delle questioni avete notato non l'ho sottolineato parlando c'è sempre il termine associated correlato alla patologia e alla transfusion questa associazione è un dato osservazionale dato osservazionale che in alcuni casi ci consente già perché sono delle evidenze a livello anticorpale a livello di indicatori biologici che ci consente già di dire c'è un rapporto fra questo e quello in altri casi sono delle osservazioni costanti sulle quali però in questa materia non abbiamo delle meta-analisi delle ricerche approfondite che ci consentano di avere una sicurezza sulla dipendenza causale e poter ricavare una regola valida per tutte le stagioni relativamente a queste questioni un criterio che in questo caso di fatto è molto utile è escludere altre potenziali cause però una volta che ho detto questo ricado dalla padella nella braccia perché escludere altre cause sì però molto spesso in molti casi sono andato via veloce ci sono antecedenti che sono segnalati quali necessarie con cause per determinate lesioni cioè per le stesse lesioni per gli endemi polmonari riconducibili alla trasfusione sono sicuramente più frequenti nel caso che ci sono già delle patologie preesistenti a livello polmonare o a livello circolatorio quindi questo ci butta nella difficoltà di riuscire a capire se siamo di fronte a altre cause che di per sé sono state idonee a raggiungere quella determinata situazione oppure di fronte a con cause allora sostanzialmente c'è anche da tenere presente che io però ti casisti che le attive trasfusioni effettuate senza indicazione con sottovalutazione delle controindicazioni però pensate che pari pari lo stesso ragionamento si può fare per tutte quelle trasfusioni che siano state somministrate soggetti che non hanno dato una manifestazione di consenso la problematica è assolutamente la stessa quanto antigiuridicità della condotta del professionista allora detta questa cosa a carattere generale no 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 ma siccome adesso va per le lunghe allora adesso voi vedete questo è l'indice che avevo proposto all'inizio gli altri tre punti sono particolarmente lunghi anche nel titolo e anche nel testo vi dico subito che intendo proporvi semplicemente una rapidissima carrellata per tutti gli elementi a disposizione che danno un inquadramento del fatto di quanta cautela deve essere applicata nella somministrazione di trasfusioni abbiamo dei provvedimenti anche di tipo ministeriale che regolano in questo senso ve li rappresento velocemente nel tentativo di fare chiarezza sulla condotta che sta alla base della mancanza della somministrazione di trasfusioni in mancanza di indicazioni allora prima prospettiva sicurezza delle cure utilizza appropriato di risorse in corso o in previsione di realizzazione grave tenete presente non voluto assolutamente sviluppare questo discorso ma la somministrazione impropria di sangue vuol dire sprecare la risorsa sangue in un momento storico in cui riacquistare risorsa sangue diventa difficile perché la popolazione invecchia e c'è una certa idoneità cronologica di età per cui dopo una certa età i soggetti non possono essere più fisiologicamente donatori quindi lo spreco di sangue oltre a poter creare danni al singolo soggetto fa sì che la collettività perda un bene e visto che ci sono anche i costi connessi possiamo impotizzare anche un danno erariale qui mi limito a mostrare appunto ho gettato ho gettato lì ho gettato la palla questa è la gazzetta ufficiale con il frontespizio relativo alla stranotta legge Gelli e questo per dire sicurezza delle cure questo è il riferimento noi abbiamo a che fare con una storia relativamente al patient blood management che è stato promosso dall'OMS a far data dal 2010 e che poggia su alcuni alcuni tre pilastri vengono indicati pilastri in base ai quali si ci si prefigge di ottimizzare la la produzione spontanea di sangue da parte del soggetto minimizzare le trasfusioni e fare in modo che vi sia la miglior tolleranza possibile all'anemia sono strategie che sono racchiusi sotto il nome di PBM patient blood management e la società italiana di anestesia e analgesia e reanimazione SIARTI italiana ha definito il PBM come approccio multidisciplinare multimodale personalizzato volto a ridurre o eliminare la necessità di trasfusione allogenica attraverso la gestione evidence based dell'anemia la riduzione delle perdite l'ottimizzazione delle strategie volte il risparmio di sangue ottimizzazione delle strategie volte il risparmio di sangue ci sono esperienze al mondo di applicazione del PBM con risultati straordinari che vi faccio passare sott'occhio l'Australia è una guida da questo punto di vista qui perché i ricercatori che l'hanno applicata per prima hanno ottenuto i migliori risultati in quel sito in ordine di adesso stiamo parlando di sicurezza delle cure c'è una letteratura sterminata al riguardo sia australiana sia europea è pacifico che l'applicazione del PBM garantisce la sicurezza delle cure e l'uso appropriato delle risorse non solo ma sempre richiamando la legge Gelli abbiamo anche a che fare proprio con l'utilizzo del PBM garantiamo la prevenzione e la gestione del rischio nei casi di animizzazione in corso o prevedibile il rapporto a interventi chirurgici questa di nuovo la rassegna tutte le possibili complicanze che vi ho segnalato e il PBM garantisce sicuramente la prevenzione di tutti questi rischi di queste patologie che vi ho presentato in esordio in più ed è l'ultima cosa che sottolineo il trattamento del PBM è non proposta mia ma esiste una comunicazione del Ministero della Salute del gennaio del 2017 che fa riferimento al fatto che debbano applicazione delle linee guida del Centro Nazionale Sangue per il programma Patient Blood Management cioè il Ministero stesso che fa riferimento alla adozione e applicazione di queste linee guida che ha elaborato il Centro Nazionale Sangue osservo e qui Vittorio casomai mi tiri le orecchie se mi lancio le interpretazioni eccessive che esiste una certa corrispondenza cronologica tra questo provvedimento del 19-1 del 2017 del Ministero della Salute che fa riferimento al PBM e le linee guida le raccomandazioni delle linee guida come sarebbero state raccomandate scusate il bisticcio dalla legge Gelli e la procedura che è stata messa in piedi dal Centro Nazionale Sangue per elaborare le proprie linee guida assomiglia abbastanza a quella che poi avrebbe approvato la legge Gelli quindi io le considero l'una e l'altra alla medesima stregua se poi non le vogliamo considerare linee guida non possiamo non considerarle buone pratiche cliniche assistenziali quindi non ci piove sul fatto che il professionista medico oggi non può non lavorare deve lavorare mi ingorgugliavo con le negative deve lavorare tenendo presente le indicazioni del PBM questi sono riassunti quello che ho detto in base a tutti questi fattori il programma del PBM è ineludibile conclusioni la nuova responsabilità del medico in corso o in previsione di alimentazione grave si basa sul rispetto ai programmi PBM i programmi di PBM hanno difficoltà ad essere sistematicamente applicati in Italia vi sono resistenze a cambiare prassi che ormai si sono consolidate di fare trasfusioni senza riflettere sull'indicazione della trasfusione per il medico si aprono scenari nuovi qualora si realizzi una delle conseguenze indesiderate della trasfusione quello che ho elencato all'inizio il medico deve aspettarsi di poter essere chiamato in giudizio con un addebito di responsabilità nell'ipotesi di aver praticato una trasfusione non indicata perché effettuata senza rispetto ai programmi PBM l'unica linea difensiva possibile si baserà sul fatto che i principi PBM sono stati invece nel caso rispettato e che si è trattato in un caso in cui la trasfusione è stata realmente necessaria e non evitabile qualora invece i principi del PBM non siano stati nel caso rispettati potranno essere coinvolti i singoli professionisti e i direttori delle avvende sanitarie i quali sono chiamati a creare le condizioni e sono le stesse linee guida che lo dicono i quali sono chiamati a creare le condizioni idonee a far rispettare le linee guida del centro nazionale sangue vi ringrazio e mi abitudine chiudo le relazioni con un richiamo alla gazzetta ufficiale della nostra Costituzione perché è un bene a cui non possiamo rinunciare grazie professor Rodriguez per essere venuto qui a Roma e averci illustrato così magistralmente il tema della causalità nell'ambito del danno post-trasfusionale quindi la ringraziamo perché ci ha affrontato un tema specifico che appunto bisogna essere esperti per poter illustrare quindi grazie veramente e a proposito ovviamente di sicurezza delle cure e danno erariale che è stato già qualche volta evocato abbiamo la presidente la dottoressa Fraioli che pure ci ha fatto la cortesia di accogliere il nostro invito lei attualmente è procuratore regionale presso la Corte dei Conti del Piemonte quindi siamo lontane ma vicine perché noi abbiamo sempre avuto modo di collaborare e sono bell'ieta che lei sia qui e anche l'articolo 32 della Costituzione da ultimo è stata illustrata la gazzetta quindi con la Costituzione e su questi aspetti più appunto giuridici ora c'è stata una carrellata nell'ambito della medicina legale così bella così approfondita torniamo un po' sul campo del diritto e allora do la parola alla dottoressa Fraioli grazie grazie si sente? ok grazie grazie Alessia proprio perché abbiamo collaborato tante volte lo facciamo sempre con immenso piacere grazie a tutti coloro che mi hanno la bontà di ascoltarmi perché come ultima relatrice devo dire è sempre una posizione un po' antipatica no? perché cala la curva dell'attenzione e quindi vabbè quello dipenderà dalle mie capacità però io sono contenta di essere l'ultima delle delle relatrici perché naturalmente ho avuto degli assist incredibili a cominciare da quello del del presidente che era un pochino più tecnico ovviamente quindi un pochino più vicino a me perché ha cominciato a parlare di articolo 40 e 41 e che servono anche a me ovviamente più e poi per arrivare a due specialisti che chiaramente mi hanno chiamato in causa per cui mi sento assolutamente comoda sulla mia sedia però c'è anche da dire che è chiaro che la mia materia il mio intervento scusate quando dico mia non è un attacco di narcisismo ma chiaramente mi riferisco all'istituto che rappresento e sembra un po' fuori luogo perché abbiamo parlato di accertamenti medici di reati contro la persona insomma ci siamo un po' fermati su quello naturalmente la corte dei conti sembra un po' il contabile di turno per cui diceva saltiamo da una non lo so da un da un peculato ad un ad un all'espropriazione di un terreno cosa c'entra tutto questo c'entra c'entra assolutamente bene benissimo a più e pari perché per tutti gli anni che ho fatto in procura prima da vice procuratore poi in sezione come giudicante e adesso come come procuratore capo posso dire ma questo si vede tranquillamente dai numeri delle nostre relazioni che un'altissima percentuale di vertenze ha proprio ad oggetto questa materia e il professor Fineschi lo ricordava prima e tra l'altro prima di accendere i microfoni mi ha detto anche che sono brutta e cattiva tanto è vero che gli ho risposto con la frase di un cartone animato molto bello devo dire la verità non sono cattiva mi disegnano così è vero questo ed è vero però poi si è fatto perdonare perché ha detto che legge tutti i miei articoli su una che sono chiaramente di diritto perché di medicina non mi permetterei mai ma sono pubblicati su un quotidiano sanità quotidiano sanità punto it che chiaramente si occupa di sanità e dove ci sono degli articoli secondo me assolutamente importantissimi non solo quelli di politica sanitaria che riesco a leggerli ma ci sono anche quelli che faccio finta di leggere perché sono talmente specifici perché parlano dal virus eccetera eccetera che non mi conto ho fatto l'esame di medicina legale a differenza del medico che non fa quello di diritto però insomma le mie conoscenze si fermavano al piacere di fare quell'esame e veramente lo ricordo con immenso piacere però questo per dire che effettivamente questi articoli che io scrivo volutamente a prescindere dal fatto che intanto per non farmi mancare niente oltre che un magistrato sono anche giornalista e scrivo dell'universo mondo sia sui quotidiani sia sulle riviste specializzate ma quelli che scrivo sul quotidiano sanità lo faccio a volte appositamente appositamente perché sono come dire dei commenti e fanno emergere come come argomento quello che è stato trattato in alcune nostre sentenze di primo grado o di appello perché lo dico per chi non si occupa di amministrativo noi abbiamo solamente due gradi di giudizio quindi abbiamo un primo grado che viene svolto in sede locale che può essere per l'appunto Torino piuttosto che Palermo o Bari e poi arriva se arriva con un giudizio eventuale in appello davanti ad una delle tre sezioni centrali che sono a Roma nello stesso discorso vale per l'inquire per l'organo inquirente che sono le procure e emergono delle diciamo delle fatti specie che secondo me devono essere portate a conoscenza del medico e questa non è soltanto una mia convinzione torno a dire narcisistica no perché ho dei riscontri io ho avuto delle mail scritte perché ovviamente il mio numero di telefono è un pochino più difficile no per carità non è sotto sotto segreto ma insomma il telefono è un po' più difficile rintracciarlo invece col nome punto cognome la mail istituzionale si ritrova con con estrema facilità ho avuto mail di medici che leggendo questi articoli mi hanno scritto ovviamente come prima cosa dopo il buongiorno scusandosi perché pensavano di aver fatto un non so quale violazione ripeto della privacy o disturbo eccetera eccetera ovviamente qualificandosi eccetera addirittura mi è stato che mi sono stati chiesti chieste delle lezioni degli interventi dei corsi perché ha detto noi siamo fortemente carenti da questo punto di vista quindi io ritengo che appunto questa sia una validazione non voluta non cercata spontanea e dalla misura di quanto effettivamente noi siamo brutti e cattivi ma perché siamo brutti e cattivi perché non siamo conosciuti non siamo conosciuti perché è vero che siamo un organo giurisdizionale soprattutto io sono una di quelli cattivi perché sono l'inquirente che chiaramente per i capelli ti porta in giudizio però è anche vero che a fronte del carattere obbligatorio quindi dell'obbligatorietà dell'azione del procuratore contabile c'è un distingo da fare cioè l'obbligatorietà è relativa a che cosa alla comunicazione del danno che è sempre e comunque ipotetico perché ora anche se la normativa nel tempo da quando io avevo calzini corti è un po' cambiata e quindi la notizia di danno deve essere precisa circostanziata eccetera ma quando invece avevo calzini corti mi ricordo che uno dei miei che insomma per me erano docenti ma erano colleghi anziani mi dicevano sempre l'esposto va considerato esaminato approfondito anche se scritto sulla carta del panino la carta del panino perché voleva dire se è come dire rabberciata come come notizia adesso è un po' diversa però l'obbligatorietà rimane cioè nel senso che tutto ciò che arriva in procura deve essere esaminato come anche un'ipotesi di danno che mi emerge dalla lettura di un qualunque quotidiano o anche da come dire dalla diciamo dalla da una trasmissione tipo report che è un contenitore di non poco momento io sono legittimato anzi ho l'obbligo di aprire un'avvertenza e l'obbligo si ferma lì l'obbligatorietà meglio si ferma lì perché questo non significa che poi bisogna necessariamente trasferire in sede di giudizio tutto come dire un quantitativo equivalente perché tra i due momenti c'è un un mondo un mondo che significa andare a vedere intanto la sussistenza dei quattro elementi che che raffigurano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile che ora vediamo quali sono ma soprattutto come primo no ma comunque come quello più importante proprio l'argomento di cui stiamo parlando adesso la causalità giuridica naturalmente una causalità materiale è la prima che va verificata ma poi quella che deve essere approfondita perché è quella importante è la causalità giuridica perché perché il diciamo la responsabilità il motivo per la quale si risponde si risponde davanti alla procura stavo dicendo davanti a me davanti alla procura cottabile è la violazione dei propri obblighi di servizio e naturalmente questo può valere per l'impiegato del catastro perché non registra un determinato immobile quindi non c'è versamento di danaro nelle casse pubbliche ma lo stesso vale e anzi a maggior ragione date quelle percentuali a cui mi riferivo prima vale nel campo medico vi assicuro che da donna mi si accappona la pelle quando vado a vedere nel settore ginecologico quanto quanto c'è quanto c'è e quindi questi sono sono dati che forse non non si conoscono non si conoscono perché la domanda per non lo so per il mio salumiere moltiplicato alla n e quindi per i non addetti ai lavori è che direbbe un magistrato molto più noto di me tanto tanto fa che ci azzeca effettivamente non si riesce a capire il nesso con la Corte di Conti il nesso c'è perché per tutto ciò che è pubblico rientra nella nostra competenza quindi se il sanitario opera in una struttura pubblica va sicuramente ad incidere in un modo o nell'altro va ad incidere sull'erario statale nello specifico nell'erario sanitario tornando al nostro argomento quello della causalità dicevo che è uno dei quattro elementi perché quattro elementi che devono ripeto sussistere necessariamente tutti in contemporanea attenzione con riferimento a quel determinato caso non altro perché l'azione del procuratore contabile oltre ad essere obbligatoria è anche puntuale cioè si riferisce solo ed esclusivamente a quel determinato caso che è caduto sotto la propria lente anche se per ipotesi il soggetto si fosse reso responsabile per altri fatti altri fatti che sono oggetti devono essere oggetto di ben altre vertenze con un altro numero un'altra vita e altre circostanze che lo caratterizzano quindi dobbiamo avere innanzitutto un danno un danno monetizzabile e in sanità è facilmente monetizzabile perché basta diciamo ricevere un danno o quantomeno pensare di aver ricevuto un danno sia direttamente dal paziente che si sente leso sia in caso di decesso dagli eredi che si innesca immediatamente l'ipotesi di danno danno che rimane un'ipotesi fino a quando non lo abbiamo accertato prima in sede inquirente e poi ovviamente nella fase giudicante il secondo elemento è il quindi se non c'è il danno io non mi attivo perché la responsabilità amministrativa contabile è risarcitoria se un danno non ce l'ho cosa risarcisco ovvio no quindi il danno prima di tutto il secondo è il comportamento di quel determinato soggetto e non di un altro quindi se io alla fine della mia istruttoria chiamo il dottor Rossi e non il dottor Bianchi è perché tutte le le condizioni mi riconducono a Rossi e non a Bianchi e non posso farlo diversamente poi il terzo elemento che è quello più importante che è quello che ci riguarda adesso è la causalità cioè il nesso di causalità fra questi due elementi cioè il comportamento del soggetto del dottor Rossi deve essere stato tale da aver causato l'evento e deve essere stato commesso diciamo deve essere un comportamento qualificato deve essere stato commesso con dolo o colpa grave ora qui apro una parentesi minima perché siccome purtroppo siamo in un momento devo dire per noi molto brutto ma non per noi solo come istituzione io in questa fase dico veramente per noi come collettività come cittadini perché proprio in questo periodo si sta modificando da parte del legislatore questo aspetto qui e si sta cercando anzi per il momento con vari decreti che si stanno rinnovando di sei mesi in sei mesi fino alla formulazione della legge definitiva si sta eliminando la colpa grave ora questo non lo dico perché mi sento l'angelo vendicatore e vado in ufficio non posso più poggiare la pistola sul tavolo dicendo vediamo a chi tocca oggi no non è per questo è perché in questo preciso momento mi sento cittadina ancora prima che magistrato perché si toglie la possibilità di perseguire i veri danni erariali e queste sono tutte risorse che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui io come procuratore e fino a pochissimo fa come giudicante perché ero nella sezione d'appello ci sono stata fino alla promozione a presidente per la quale ho dovuto fare le valigie però la posizione non cambia cioè nel momento in cui io riesco sì sì grazie quindi dicevo nel momento in cui riesco è un termine un po' brutto ma insomma è di bassa cucina si usa riesco a far condannare qualcuno o riuscivo a condannare quando scrivevo sentenze non è una soddisfazione un'espressione del potere ma lì mi sento più cittadina perché intanto quando noi diciamo sono riuscita a farmi ridare 200 mila euro è come dire è un'espressione un po' colloquiale ma in realtà io né come inquirente né come giudice vedo questi soldi perché ritornano direttamente all'amministrazione danneggiata è l'amministrazione sanitaria che si riappropria di quei soldi li rimette nel circuito e rimetterli nel circuito significano servizi servizi alla popolazione servizi a tutti noi che ne abbiamo bisogno e soprattutto a chi non può permettersi non so la sanità privata che è comunque ben sostanziosa quindi detto questo l'eliminazione di questo diciamo di questo aspetto è veramente molto preoccupante io vorrei che il legislatore se ne rendesse conto e non dal punto di vista di sottrazione del potere perché io continuo comunque ad operare sulla base di quello che poi mi dirà la nuova legge non posso fare diversamente l'ho sempre fatto quindi però proprio da un punto di vista del vantaggio che ha la cittadinanza e questo non vuole essere assolutamente una rivendicazione sindacale perché è un lavoro che non so fare però era bene che venisse detto nell'ambito di questa parentesi l'ultimo elemento è quello della pubblicità del soggetto delle risorse eccetera eccetera quindi vedete che di tutti questi l'elemento quello più importante è sicuramente la causalità perché se io non ho la possibilità sulla base di questa parola che poi ha un mondo dietro ha un significato estremamente importante alla quale riesco ad arrivare grazie a eh sì grazie alla collaborazione ovviamente di professionisti come il dottor Finischi e il dottor Rodriguez che sicuramente in misura molto diversa molto minore che non nel settore che è rappresentato dal presidente Blaiotta però però sono loro i miei compagni di viaggio ai quali io chiaramente non chiedo una una perizia dopodiché li saluto arrivederci e grazie no bisogna per arrivare ad identificare quella causalità quell'elemento lì io ho bisogno di dialogo ho bisogno di confronto perché è vero che il giudice è il perito speritorum però è anche vero che io ho bisogno di confrontarmi mi ricordo anni fa avevo chiamato un giudizio per l'appunto un otorino perché il paziente aveva comunicato questo danno che gli aveva portato perché in realtà aveva operato l'altro orecchio quello sano e non quello malato e lui mi voleva io quando il convenuto mi chiede un'audizione non posso non dargliela può anche venire a dirmi io sono alto biondo con gli occhi azzurri poi magari piccino così nero va bene ne prendo atto metto a verbale poi trago le mie conclusioni e questo continuava a sostenere che quello era quell'orecchio lì io non avevo una grande scienza però insomma poi alla fine studiandoci un pochino e quello di cui ho avuto bisogno era del mio medico legale perché peraltro lui poverino era non soddisfatto era andato a farsi operare all'estero quindi avevamo chiesto anche lì la cartella clinica eccetera però la presenza del medico legale per me è stata fondamentale ero io il peritus per carità dei peritorum però ne avevo bisogno dei peritorum non potevo mi sentivo di non poter viaggiare da sola quindi vedete quanto la loro la loro presenza il loro aiuto e quindi tutto quello che è stato detto prima del mio intervento è diciamo è stato fondamentale perché perché il pubblico ministero contabile deve dimostrare che il quel famoso danno era reale ovviamente è conseguenza di che cosa di un'azione o dell'omissione del soggetto chiamato in giudizio e qui a proposito di omissione mi voglio un attimino soffermare perché perché noi molte volte parliamo di responsabilità istintivamente ci viene da pensare a un comportamento commissivo cioè sei responsabile perché hai fatto qualcosa e invece dimentichiamo che si può essere responsabili anche per omissione magari se ci riflettiamo un attimino sopra diciamo beh sì però è vero però D'Amblè si pensa sempre alla commissione di un determinato fatto e invece non impedire un evento per esempio che si ha il dovere di evitare di arginare tanto più se rientra nei propri obblighi di servizio è un danno era reale e quindi come dire foriero di responsabilità corrispondente esattamente come nel comportamento commissivo anche perché non mi soffermo perché lo ha fatto veramente egregiamente il Presidente e lo ringrazio perché così mi fa soffermare meno sul punto ma l'articolo 40 e 41 di cui abbiamo parlato prima del codice penale si applica in pieno esattamente anche anche nel nostro campo quindi è anche quello il nostro come dire punto di riferimento poi naturalmente noi ci allarghiamo anche un po' arriviamo al codice civile all'articolo 2043 perché siamo ovviamente un po' più vicino al civile questo ce lo dice la Cassazione piuttosto che al penale poi abbiamo i nostri testi sacri di cui uno ha più di 100 anni per la precisione 101 o l'altra legge la legge la 20 del 94 che insomma è un pochino più giovane però come dire ritornano sempre intorno allo stesso identico problema quindi praticamente noi abbiamo il concetto di che cosa il principio fondamentale da cui non ci dobbiamo staccare è quello un po' che in effetti ci ha indicato la Cassazione la Cassazione appunto con riferimento a questi due articoli 40 e 41 in pratica cosa ci ha detto ci ha detto che le teorie ci sono state tante teorie sulla causalità adeguata ma non ci soffermiamo adesso altrimenti finiremmo non so quanto e quando e poi farei una lezione universitaria io faccio un altro mestiere ma ha detto di tener conto di due teorie che devono andare in parallelo appunto la teoria della condicio sine qua non e la teoria della causalità adeguata quindi praticamente la prima che cosa significa significa che quel danno non ci sarebbe stato non si sarebbe mai verificato se prima non fosse stato posto in essere un comportamento capace di determinarlo e l'altro quello della causalità adeguata e lo ha anticipato anche il presidente prima cioè che in buona sostanza in estrema sintesi diciamo così significa che quel determinato danno è la conseguenza immediata e diretta di quel comportamento perché se un'altra causa preesistente sopravvenuta concorrente eccetera eccetera si intromette in questo filo naturalmente si interrompe il filo e non si può più parlare di responsabilità amministrativo contabile io no no avrei mille altre cose da dire però mi mi taccio perché ho cercato di essere più sintetica possibile per dire tutto quello che voglio però ah ecco l'ultimissima cosa ecco questo l'avevo dimenticato dopodiché veramente mi taccio il danno per quanto riguarda il danno erariale è sicuramente per eccellenza il danno patrimoniale il paziente nello specifico ha riportato una menomazione o peggio ancora dall'intervento dal non so ne è causata la morte e quindi il danno è X e deve essere necessariamente parametrato ad una somma di danaro quindi quello è il danno patrimoniale e il danno per eccellenza però possiamo avere anche il danno che può essere il danno all'immagine della struttura sanitaria il danno da disservizio e quindi questi sono danni per esempio quello all'immagine che va quantificato in via equitativa cioè a seconda di quelli che sono gli elementi che lo caratterizzano da ultimo dopo veramente mi taccio bisogna considerare che altre poste di danno non si considerano il più delle volte ma lo sono sono anche gli interessi che liquida per esempio il giudice civile e dopo di che arriva a noi e le spese di giudizio che a volte francamente non sono proprio non sono proprio spiccioli e quelli quando effettivamente devono essere rimborsati dall'amministrazione per delle motivazioni giuridiche eccetera e sono un danno erariale e con questo mi taccio veramente grazie presidente Fraioli ci ha illustrato anche un aspetto appunto come diceva meno conosciuto e più per questo spesso temuto ma che invece è utile conoscere meglio per sapersi poi approcciare nel modo giusto volevamo fare una domanda credo che ci stavamo per questo consultato su questa nuova normativa che dovrebbe lei faceva cenno a qualche evoluzione legislativa sì purtroppo perché è in atto già dal diciamo dal periodo di covid quindi sono è diverso tempo che proprio è legato praticamente come motivazioni ce ne sono due intanto affrontare l'emergenza covid e a occhio saremmo un po' fuori l'altro invece poi è subentrato sono i famosi soldi del PNRR per cui praticamente che cosa è stato stabilito con un decreto che prima doveva avere una validità semestrale poi quel semestre si è allungato poi è ridiventato insomma adesso l'ultimo semestre dovrebbe scadere a dicembre a dicembre prossimo e però sono stati presentati dei disegni di legge terribili terribili perché ripeto per la motivazione che dicevo prima perché si vuole consentire al procuratore contabile di intervenire solo ed esclusivamente in presenza di dolo dolo che deve essere dimostrato con un arzigogolo eccetera eccetera e eliminare assolutamente la colpa grave che era invece quella che consentiva un maggior margine di manovra ma soprattutto era quello che consentiva di poter recuperare delle risorse economiche e anche non molte volte il più delle volte in misura minore perché anche questo va detto il giudice contabile ha un potere di non poco momento che è chiamato il potere riduttivo cioè che a fronte di un danno di 100 può chiedere sanzionarlo quindi condannare il soggetto a rimborsare un 50 un 40 un 60 e in presenza ovviamente di una serie di elementi che lo legittimano è vero che è poco 60 50 è sicuramente molto meno rispetto a 100 però è anche vero che è un 50 che rientra in quelle famose casse e questo io lo valuto ovviamente da cittadino nel momento in cui mi si fa una modifica normativa che buona sostanza stravolge l'istituto e tra l'altro un'ultima un'altra come dire proposta che si è agganciata da un altro soggetto è quella dell'eliminazione delle procure territoriali quando con quella famosa legge che dicevo è un po' più nuova ma c'ha sempre 30 anni era stato fatto l'esatto opposto cioè i nostri uffici erano sempre stati degli uffici di controllo e con quella legge sono state invece portati gli organi giurisdizionali procura e sezione proprio ecco con competenza territoriale io è stato detto prima giustamente da Alessia sono procuratore capo della regione la regione Piemonte quindi ho competenza su tutto ho sede a Torino ma la competenza è su tutta la regione e quindi voi capite bene che questo essere presenti sul territorio molto meno capillarmente che non i colleghi dell'ordinaria però ha un significato e torno a dire io questo lo ribadisco non per una sorta di lustro personale ma semplicemente perché noi forniamo un servizio che è quello della giustizia come esattamente tutti però mentre magari il collega dell'ordinaria lo può fare di volta in volta no? se io ho avuto un danno a titolo personale o peggio ancora ho sofferto un lutto in famiglia vado a chiedere giustizia a titolo personale la nostra azione è sempre sistematicamente in funzione della collettività quindi quel famoso cento che io recupero 50 che recupero è sempre comunque a favore della collettività perché sono risorse che vengono riversate nel calderone nello specifico dell'amministrazione sanitaria e quello significa veramente più e migliori servizi per tutti grazie per il chiarimento e grazie per l'approfondimento allora saluto tutti salutiamo tutti e ringrazio tutti i relatori presenti davvero e avremo modo di approfondire queste tematiche in futuri conveni che la nostra commissione organizza magari con questi relatori sempre così disponibili sarà un piacere grazie